Si è buttato in acqua per aiutare la figlia, trascinata a largo dalla corrente. Poi è andato giù anche lui, stremato dalla fatica o forse a causa di un improvviso malore. La piccola alla fine è stata tratta in salvo, ma per il padre era già troppo tardi. Così una domenica al mare si è trasformata in tragedia per una famiglia barlettana che ieri pomeriggio, intorno alle 15, si trovava in spiagge in località Fiumara, nel tratto di costa tra la città della Disfida e Margherita di Saboia. A perdere la vita un uomo di 46 anni, Tommaso Barbaro, era in compagnia della moglie e delle sue due bambine. Una di loro, di soli 11 anni, stava facendo il bagno poco distante dalla riva, ma la corrente, in prossimità di alcuni scogli, ha cominciato a risucchiarla. Accortosi di quanto stava accadendo sotto i suoi occhi, il padre si è tuffato immediatamente in mare, nuotando verso la piccola. La madre, dalla spiaggia, ha urlato, ha chiesto aiuto, richiamando così l'attenzione di alcuni bagnanti. In tre si sono gettati in mare e, non senza difficoltà, hanno raggiunto appena in tempo la ragazzina, mettendola in salvo su un materassino. È stata lei ad indicare ai soccorritori che suo papà era sott'acqua. L'uomo, privo di sensi, è stato portato a riva, dove, in attesa dei sanitari, è stato sottoposto ad un massaggio cardiaco, ma inutilmente. All'arrivo dei medici arrivati in ambulanza da Canosa di Puglia per il 46enne. Purtroppo non c'era già più nulla da fare.